Per migliorare gli standard di sicurezza in Toscana, la Regione, l'INAIL, i Vigili del Fuoco, i sindacati e le categorie economiche hanno firmato un'intesa per pubblicare un rapporto annuale sulla sicurezza del lavoro in Toscana. Grazie a quest'opera di monitoraggio a cui contribuiranno tutti gli enti coinvolti, la situazione potrà essere analizzata settore per settore, approfondendo le cause di infortuni e malattie professionali, i rischi particolari e coordinando gli interventi immediati a medio e a lungo termine. Noi bisogna avere a livello regionale un osservatorio che annualmente consenta di fare il punto e di studiare gli incidenti che sono avvenuti, in modo che si possa andare anche a rivedere le procedure di sicurezza che vengono adottate dalle aziende, nei controlli che fanno le ASL e gli altri enti competenti. Questo per noi è un ulteriore passo nella direzione che già abbiamo comunque intrapreso, nel senso che siamo pronti e siamo convinti che la soluzione, l'unica speranza, l'unica direzione che dobbiamo avere è quella delle zero infortuni sul lavoro. Per cui questo è un passo, un ulteriore impegno che ci sentiamo di prendere in quella direzione. È un passo estremamente importante, devo ringraziare il Presidente della Regione che ci ha coinvolto, un po' sdoganandoci da quell'idea dei vigi del fuoco che soccorre. Qua facciamo prevenzione e il nostro contributo sarà forte, sia nel termine della raccolta dei dati, soprattutto dell'analisi degli incidenti che accadono, in cui noi interveniamo, sia poi successivamente lo studio che ci porterà a definire procedure, migliori pratiche per garantire sempre più la sicurezza nei luoghi di lavoro. Il rapporto sarà poi valutato anno dopo anno da un comitato tecnico scientifico preseduto dal Presidente della Regione e composto dagli enti sottoscrittori, dai docenti universitari e da esperti in sicurezza. Obiettivi prioritari? Intervenire sulle criticità ed elaborare soluzioni condivise.